L'Aisi è l'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Interna ed è una delle due agenzie dei servizi segreti italiani che operano per la sicurezza della Repubblica. Essa è un unico direttore ed ha iniziato la sua attività il 28 agosto del 2007, successivamente all'istituzione della legge 124 del 3 agosto 2007. L'Aisi può svolgere intelligence in attività informativa esclusivamente all'interno del territorio nazionale per prevenire la minaccia interna. Qualche volta, in talunni casi, viene consentita l'attività informativa esterna per minacce al rischio interno, soltanto se l'Aisi si coordina con l'Aise e non sovrappone inutilmente le sue attività anche con il compartimento Rissi Difesa. L'incarico del direttore dell'Aisi ha durato di quattro anni ed è rinnovabile per soltanto una seconda successiva volta. Invece nell'ambito dell'agenzia tutti gli incarichi vengono affidati esclusivamente dal direttore unico dell'agenzia stessa. I nostri operatori, i nostri 007, operano sul territorio nazionale, fanno raccolta informativa sia attraverso quello che può essere l'OSIT sia attraverso quello che può essere attività U-Mint direttamente sul territorio. Chiunque voglia continuare ad approfondire questi temi in apparenza complessi può consultare anche i siti governativi. Noi continueremo il nostro lavoro di scientificazione di questi contenuti per entrare sempre più nel mondo dei servizi segreti italiani. Buon lavoro a tutti! Grazie a tutti!